...di noi che guardiamo. Quello che posso segnalarvi è che ecco, questo muro che voi vedete così tutto sgarruppato, direi che è una meridione, non è altro che il tamponamento di una nicchia che conteneva presumibilmente un'ancona dell'altare che secondo le nostre indagini si trovava prima su questa parete. Vedete che lì c'è un'altra frazza della macchia. Quindi da questa parete est è stato ordinato di spostarla sulla parete sud e infatti noi troviamo questa traccia che ci conferma, ma poi nella conferenza verrà spiegato molto bene. Questo bussolotto fa parte della nuova chiesa, è la nicchia che contiene in San Luigi, per l'altare della cappellina che è fuori ed è stato quello che ci ha fatto, costruzione di questo bussolotto ci ha fatto perdere una parte degli affreschi. Qua vedete che tutto quello che è stato possibile recuperare...